Siamo a piazza dei 500 a Roma di fronte al Museo archeologico nazionale romano di Palazzo Massimo. In questo momento abbiamo la mostra dedicata al tesoro di Morgantina e anche ad altri pezzi rientrati dal Museo di Mavibu. Morgantina, Teas, Silver, Quanti. Il tesoro di Morgantina, argente del terzo secolo, avanti Cristo da New York alla Sicilia passando per Roma. Siamo proprio in piazza dei 500 a pochi metri dalla stazione centrale. Da 4 giugno il tesoro di Morgantina è in mostra al Museo regionale archeologico Antonio Salinas di Palazzo. Il segreto di Morgantina, il tesoro di Ausculum, per tutti i trafugati perduti e infine ritrovati. Siamo proprio in piazza dei 500 capoline di tutti i sistemi di trasporto della capitale, proprio a pochi metri dalla stazione termica. Siamo proprio in piazza di Morgantina,